Filippo Ciavaglia, segretario della Camera del Lavoro di Perugia, quale sinistra per l'Umbria e per Perugia? Credo che intanto occorra una sinistra per l'Umbria e per Perugia, occorra una sinistra unita, una sinistra che però apria al suo interno una cornice di contenimento dei valori della sinistra che partono dall'uguaglianza. Noi abbiamo un contesto regionale, quindi provinciale, di un aumento della disuguaglianza e dell'avvicinamento delle persone alla soglia della povertà, circa 240.000 nella regione di Lombria e 180.000 nella provincia di Perugia. La sinistra deve forse assolutamente due obiettivi dal mio punto di vista. Il primo è ridurre questa disuguaglianza che sta crescendo e quindi ridurre quello che è il margine di povertà e il secondo è quello di determinare percorsi di progettazione e integrazione che determinano il lavoro. La parola lavoro naturalmente è uguale a dignità, dignità di lavoro. Questo secondo me dovrebbe fare e proporre un contesto per la sinistra in Umbria e nella nostra regione. Grazie.